Comunque effettivamente conviene o no shoppare questo Allora secondo me Frippi a tutti sono Otti di Pura Più Pretelliana Con il mio cappellino da 50 centesimi E che la connessione vera sia con voi cari amici connessionati Che vi siete iscritti e avete attivato la campanella Per non perdere i video e le live di questo canale Tanto si sa che Youtube è bagato e non manderà mai le notifiche Arriviamo a 5000 like per questo episodio della serie Che porto praticamente sempre ogni volta che c'è qualsiasi pacchetto O qualsiasi battle pass della Epic Games In questo video infatti parleremo di Conviene shoppare effettivamente il pacchetto del Ranger Oscuro Perché si perché no Anche perché è un pacchetto che non abbiamo mai visto prima Quindi sicuramente è diverso da tutti gli altri pacchetti visti in precedenza Io vi ricordo che trovate in descrizione il link di Instagram E vi consiglio assolutamente di passarci Perché posto un sacco di foto interessanti di link e di robe Quindi veramente fateci un salto pure più italiana.pfi Ancora una volta raga vi ricordo che è molto importante che vi iscriviate E attivate la campanella per essere dei connessionati puri E non perdere nessuna cosa di questo canale E detto ciò andiamo subito al video Infatti eccoci qua su Fortnite Vediamo allora il pacchetto sfide del Ranger dell'amor perduto A fronte alle sfide lanciate dal Ranger dell'amor perduto Per tornare fino a 2000 V-Bucks Questo pacchetto contiene bla 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 Dorso decorativo ali ombra Costume Ranger dell'amor perduto Sfide del Ranger dell'amor perduto Completa un totale di 14 sfide giornaliere per ottenere 2000 V-Bucks Che sono praticamente 20€ Quindi noi paghiamo 20€ Ci danno la skin Le ali E le sfide per farci fare V-Bucks E voi vi chiederete Ma perché non ci danno direttamente 2000 V-Bucks senza dover fare le sfide? Molto semplice È una strategia anti Apex Legends Per far sì che la gente giochi a Fortnite E non giochi ad Apex Legends Danno questa cosa qui Che per ottenere questi V-Bucks dovrai giocare per 14 giorni In ogni caso dai Lo acquistiamo al modico prezzo di 22 Eh sì di 22€ Di 20€ Pam 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 Oggetto successivo E per finire le sfide dell'amor perduto Vediamo un po' Vediamo un po' Perché teoricamente queste sfide non sono Allora le ali Vediamo le oscure Cioè io praticamente ho tutti i ranger Ho i ranger quello di ghiaccio O il ranger quello normale Che tra l'altro non ho mai usato in vita mia Se devo essere sincero Cioè questo qua Io l'ho comprato al tempo Solamente solamente Per le ali Vediamo un po' però questo ranger mal detto Una cosa che non mi piace è stato questo Il fatto che Perché al tomato head Gli hanno dato lo stile personalizzabile Completamente gratis Invece al ranger dell'amor perduto Eccetera 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 Non gliel'hanno dato Cioè questa roba non l'ho capita Scusatemi Che razza di 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 cosa è Però vi chiedo semplicemente una cosa Andate su supporta un creatore E inserite il codice OctiPFI Tutto minuscolo Tutto attaccato Per supportarmi come un creatore Così ogni acquisto Supporterà il canale Ragazzi Siamo già arrivati a 20.000 supporters Non ci avrei mai creduto Ma appunto per questo Ho lanciato la sfida Che a 20.000 supporters Mi dovrò colorare i capelli di blu E maledetti voi Mi toccherà colorarmi i capelli di blu Voi siete proprio dei pazzi Siete proprio dei pazzi Ma lo dovrò fare Quindi in uno dei prossimi video Me li farò tingere da mia amorosa Cioè mia amorosa me li tingerà E poi avrò i capelli blu Comunque effettivamente Conviene o no Shoppare questo Allora secondo me L'Epic Games ha fatto un pacchetto Mai visto prima Cioè un pacchetto che dà Anche V-Buds Che però devi ottenere nel tempo La cosa che più non mi piace in assoluto È appunto il fatto che devo pagare Per questa skin Che è praticamente uguale All'altra skin Di questo Solo che è colorata Un po' diverso Il che ci sta Certamente Però uno Non la reputo Una skin leggendaria Questa voglio dire Cioè Parliamone seriamente Non è una skin proprio leggendaria Ce ne sono di skin leggendaria Che sono mille volte meglio Cioè questa è una skin leggendaria Voglio dire Questa è una skin leggendaria Ma no sicuramente Quella lì Che è molto molto semplice Stop prima di proseguire col video Ti ruvo 30 secondi Per la sponsor time Perché immagino che tu sia stufo Di giocare con una tastiera scadente Che ti fa venire voglia Di scaventarla Da tutte le parti E immagino che tu abbia deciso Di comprarti una nuova tastiera Da gaming meccanica Super fighissima Allora la tastiera Blade Master TE della Drevo È ciò che fa il caso tuo La tastiera più votata Nell'intera storia Di Kickmaster Con un layout Completamente in italiano Che uso io stesso Per fare vittorie Con 15 kill su Fortnite La particolarità della tastiera È appunto il genisknob Situato alla sinistra Della stessa A cui puoi assegnare Ogni comando Che ti venga in testa Da quando l'ho provato Non potevo più farne a meno Addirittura i led Sono luminosissimi E bellissimi Nella fighissima scatola Troviamo la tastiera Le istruzioni Un pennello per scopare La tastiera Una pinzetta Per rimuovere i cakehouse E una foto di occhi Da piccolo Col culetto di fuori No Forse questa non c'era Nessun obbligo Ma se volete una tastiera Come la mia Andate in descrizione Che trovate il link Per la tastiera Con un codice sconto Del 20% Solo per gli iscritti Alla pura fibra italiana Sbrigatevi Prima che finiscano Tuttavia Io mi sono sempre promesso Che avrei comprato Qualsiasi pack Di Fortnite Quindi in ogni caso L'ho comprato Vediamo Eccole qua Le sfide del ranger Dell'amor perduto Completa sfide quotidiane Completa sfide quotidiane Completa sfide quotidiane Bla 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 Quindi Devi completare Un totale di 14 Per ottenere Tutti i W-Bucks Chiaramente li ottieni Man mano Come stiamo vedendo qui Cavolo Ho un sacco di sfide Da completare Devo completare Anche queste E devo completare Anche queste Che no Queste le ho già completate Tranne una costina Di rifornimenti Che devo ancora trovare Eh non ci resta Che andare a provare In gioco Sto tizio Cioè Non Non mi resta Altro che fare questo Effettivamente Raga raga Quando avrò i capelli blu Veramente Sarà qualcosa di assurdo Sarà qualcosa di assurdo Raga avete visto Comunque tutte le crepe Che stanno accadendo Intorno a Bosco Blaterante È palese È palese Che nella prossima season Qualcosa succederà A Bosco Blaterante Chissà che Chissà che il bunker Si apra finalmente Sarebbe una cosa Buona e giusta Anche perché abbiamo Aspettato fin troppo Comunque lo vediamo In tutto e per tutto Qua Che è così violetto Che sembra praticamente Una melanzana Che cammina Comunque cosa ne pensate Voi del fatto Che adesso Il cap dei materiali È 500 E ogni kill ci dà 50 di vita O 50 di scudo O 40 Non mi ricordo neanche più Perché so che l'hanno cambiato Tipo più e più volte Comunque io lo trovo fantastico Secondo me il gioco Non è mai stato meglio di così Ma lo dico su serio Cioè il fatto che Bisogna avere massimo 500 materiali Spinge la gente A lutare di meno Inizialmente E di andare a combattere di più Anche perché Ti premi a combattere Nel senso che ti danno materiali Ti danno vita Scudo Cioè veramente ci sta Io non ho mai visto Questo gioco In uno splendore migliore Se non dalla lontana Season 2 C'è gente che potrebbe Lamentarsene Ma secondo me Questo aggiornamento qua È stato veramente Una cosa fantastica Peccato che non c'è anche Perché Cioè voglio dire Ho già pagato 2 e 20 euro Per avere questa maldetta skin Potevano darmi anche Il piccone adatto No No Non me l'hanno dato Il piccone adatto Maledetti Scusa Non è corretta come cosa Epic Games Non è corretta per niente Dovete essere più corretti Accidenti a voi Certo che la gente Che fa questi quartieri Veramente si spreca una vita Perché sono veramente belli Alcuni Cioè che poi raga Veramente Veramente Quanto facile è adesso Fare 500 di legna Guarda praticamente Ci sono arrivato Quindi Veramente Fare la legna adesso Ma non solo la legna Qualsiasi cosa È veramente una stupidata Imane Che ci si mette due secondi A fare Ed è questo il bello Che non si perde più tempo A lutare E poi uno ci ammazza In due nanosecondi E basta Noi abbiamo perso Tutto il tempo Della nostra vita Solo per quello Ci sta una vita A questo aggiornamento Non capisco la gente Che si mi lamenti Comunque È davvero bello Il piccone comunque Del ranger Cioè se devo dire la verità Il piccone mi piace Molto di più Magari del ranger stesso Strano ma vero E anche la mimetica Che hanno dato gratis Alla fine Non mi dispiace Più di tanto Sicuramente meglio Della mimetica Di san valentino Cioè questa mimetica Di supporto a un creatore Quella tipo Che si riceveva gratis Supportando un creatore Era sicuramente meglio Di quell'altra Che è andato Quella rosa Con i cuori bianchi Questa mi piace Molto di più Sinceramente Il mio obiettivo Sarebbe trovare un airdrop Ma non lo troverò mai Certo Magari applicata Un aereo Questa mimetica Non è poi così Così speciale Ma è possibile Trovare un airdrop Che diamine Cioè C'è la missione Di trovare gli airdrop Non ne trovo uno E basta sparare Al mio aereo Diamine Guardali Guardali Che sparo Cioè questi qua Non hanno proprio Niente di meglio Da fare Nella vita Ma io sono Ma io ero a coppie Raga Io sono a coppie Non me ne sono mai accorto Raga Sono a coppie Io Non me ne sono proprio Mai accorto Accidenti Questa non è una bella roba Però effettivamente Non è proprio Per niente Una bella roba Va bene Va bene Il mio aereo Esploso Ora cosa faccio Ora salgo sulla montagna E prendo un carrello Ma che cavolo Lo usa più il carrello Raga Ma che cavolo Cioè dovrebbero L'Epic Games Dovrebbe pensare A ste robe Dovrebbe dire Ma cavolo Ma il carrello Lo usa qualcuno No E allora togliamolo O miglioriamolo Ma quello è un lama È un lama Ma non è un rifornimento Accidenti Che mi servirebbe Raga ma che vista C'ho per dire Che quello è un lama Dio Avete visto Io l'avevo visto Da lontano miglio Accidenti Questo qui Questi qua Non scherzano Non è andata bene Non è andata bene Non è andata bene